Il nostro batterista c'è uno scherzo speciale per voi, in italiano, ok? Visto che il cognome è Lombardo, miglia, che ne dici, ok? Ok, 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 state attenti, state attenti. Chi è l'elettricista italiano più famoso? Lampalario. Questo è veramente uno scherzo di un vecchio papà. Amper. Amper. Amper non potete rire, nello? Ok.